Era un po' che mandavamo una newsletter da dopo le elezioni in Emilia-Romagna e lo facciamo in un momento emergenziale per l'Italia, per il coronavirus, un momento di grande confusione in cui io spero che il Paese trovi una forza di unità. Errori sono stati commessi, io credo, ma soprattutto lo crede Walter Ricciardi che, come sapete, è nel Comitato Promotore di Azione. In particolare è stato sbagliato non tracciare le persone che arrivavano, non predisporre quarantene e soprattutto lasciare alle regioni la gestione, come volevano, di un'emergenza che quando è nazionale va necessita di un protocollo nazionale. Detto questo, questo è il passato. Adesso bisogna lavorare tutti insieme per gestirla, questa emergenza, e sono molto contento che Walter sia stato scelto dal Ministro Speranza per collaborare come consigliere. Ovviamente rimarrà in azione e continueremo a lavorare sul sistema sanitario perché poi alla fine siamo stati gli unici che prima di questa emergenza abbiamo spiegato che l'importanza del sistema sanitario che oggi è carente di medici e carente di infermieri e nonostante questo sta tenendo botta, spesso mettendo a rischio la vita e la salute degli operatori sanitari. Ecco, non ricordiamocelo solo durante le emergenze, azione continuerà a mettere il sistema sanitario nazionale al centro della sua attività politica. In secondo luogo ci sono le elezioni regionali e azione ribadisce che mentre a livello nazionale non si possono fare accordi col Partito Democratico e con Italia Viva perché sono al governo con i 5 Stelle. Noi facciamo della coerenza e della trasparenza, la nostra ragione di esistere, come abbiamo fatto in Emilia Romagna, alle regionali, laddove non ci sono i 5 Stelle, noi saremo in coalizione con il centro-sinistra quando il candidato è di qualità e sarà così in Veneto. Vedremo nelle Marche, nella Liguria, i candidati, stiamo confrontandoci, mentre rimane la richiesta forte, pressante, di responsabilità al PD perché ritiri Michele Emiliano. Le ragioni le conoscete e non voglio ripeterle, è stato uno dei governatori più populisti e ha detto del PD, dei governi del PD, delle cose terrificanti, fan dei tumori, ha parlato della TAP paragonandola a Auschwitz, ha fatto di tutto sull'Ilva, la Xilella è stata responsabilità anche sua. E noi chiediamo al PD di fare un gesto di responsabilità, l'abbiamo fatto noi in Veneto, il candidato che è stato scelto non è quello che avremmo scelto noi, però è una persona per bene, e alla fine la supportiamo. Fate lo stesso in Puglia. Ritirate Michele Emiliano, troviamo una figura, può essere Dario Stefano, può essere qualcun altro, non dobbiamo sceglierlo noi, ma troviamo qualcuno che davvero rappresenti i riformisti. Infine la questione economica, che è la questione che in questo momento preoccupa moltissimo. Noi andremo in recessione quest'anno. Il governo sta facendo oggettivamente male da questo punto di vista. Va ripristinato per intero il piano impresa 4.0, anzi rafforzato, e vanno aggiunti dentro i contributi di un vero Green Deal, che non è quello presentato al governo, che è completamente vuoto. E contemporaneamente dobbiamo trovare delle forme di sollievo duraturo, per piccoli esercizi commerciali, nelle aree, in particolare a Lombardia e Veneto, ma non solo, che sono colpite oggi da un crollo dei consumi, delle presenze, del turismo. Va trovato qualcosa. Su questo lavorerò anche a Bruxelles nelle prossime settimane, con il gruppo PD Siamo Europei, di cui faccio parte. L'azione sta andando bene, sta crescendo, si sta radicando, sta funzionando, sale nei sondaggi. Le persone si avvicinano a questo movimento, che nasce insieme con l'idea che la politica non è quella del meno peggio. La politica deve essere coraggiosa e trovare una via per riportare competenza e serietà tra gli italiani e andando a recuperare la rappresentanza, il che è un percorso lungo, che la destra ha fatto con Meloni e Salvini. Io ovviamente abborro quello che loro sostengono. Però hanno fatto questo lavoro, hanno preso partiti al 2,5-3% e li hanno portati alla maggioranza. Noi non abbiamo fatto quest'opera di rinnovamento tra i progressisti, i liberal democratici e i popolari. E per farlo abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di iscritti, associati, che lavorino, si mobilitino e sta accadendo, deve continuare. E il messaggio che sento di darvi è stateci vicino, iscrivetevi. È importante per tutti, per l'Italia seria, quella che lavora, produce, studia. Noi dobbiamo riportare quell'Italia al centro dell'agenda politica e possiamo farlo. Grazie. Grazie.